Musica Potente appara ragazzi Qua è Axlod, Giunegato, oggi sono Nassol E sono qui a presentarvi un nuovo Pinkfale Perché infatti era da un macello di tempo Che non ne facevo uno All'incirca due settimanelle E poi è anche da un macello di tempo Che non vi portavo un video sull'ultimate Team normale e ho detto E no, e no, e no La cosa più piccola o meglio la minima cosa che io potevo fare Era portare appunto un nuovo Pinkfale Per ricominciare a fare video Sul normale FIFA Ultimate Team E oggi ho l'onore di presentarvi Il Pinkfale di un giocatore man of the match O meglio del primo giocatore man of the match Della nazionale italiana Infatti sto parlando di Antonio Candreva man of the match O meglio i man of the match perché sarebbe International man of the match Ma ragazzi in questo Pinkfale Non sarà un solo giocatore appunto Che io andrò a Pinkfale Ma pensi due Perché oggi ne sono usciti due di man of the match O meglio tre Però ne ho scelti due Che sono Candreva e Aurie Adesso non so come si dica bene Però cos'è successo? Praticamente Aurie aveva anche una versione Team of the Season E la versione Team of the Season Era molto più forte a quella man of the match E costava la metà E io ho detto Ma non va bene sta cosa Preferisco semmai dare un giocatore un po' più forte Che però costi meno Quindi oggi sono a presentarvi qua Il Pinkfale di Candreva Iman of the Match E di Aurie Team of the Season Quindi ragazzi Detto questo Ah no Ho altre due cose da dirvi Veramente tattiche La prima è che Se siete interessati a comprare Credi di FIFA Vi ricordo di passare da FIFA Con il Stash Ma passate bene Dal link in descrizione Perché per il sito italiano Hanno appunto Lo hanno cambiato Quindi passate mi raccomando Di quello della descrizione E seconda cosa È che Nell'ultimo video Vi ho visto stra poco carichi Con il mi piace Quindi dato che adesso Ho intenzione di portarvi Pinkfale veramente costosi Voi dovete spaccarlo proprio Questo video Deve arrivare A 4.000 Ragazzi 4.000 mi piace per questo video Sono d'obbligo Comunque Io non mi sembra Che abbia altre cose da dire Vabbè se volete Partecipare ai miei conti Passate sulla pagina Facebook E detto questo Andiamo a twittare Sulla pagina Facebook Come vedete Pinkfale Iman of the Match Andreeva E timo De Sesso Laurie Solite cose E adesso aspettiamo Gli inviti Ragazzi Io direi di andare A accettare Il prossimo invito Quindi quello dopo Maradona 9 Tecnicamente parlando Dovrebbe essere Il nostro sfilante Questo qua Andiamo subito A premere il tasto Xbox Che ho schiacciato Sono sicuro Infatti Nostro sfilante Vocable Flyer 367 Ci sei? Buono Cioè Adesso Andiamo ad invitarlo E là Ok Allora Ci dovremmo essere Quindi Vocable Flyer Sarà il nostro sfidante Andiamo ad invitarlo E scriviamo stop Sulla pagina Facebook Oh mio dio Controlliamo un attimo Di stare registrando Che mi sa che ho sbagliato Una cosa Invece no E invece no Noi stiamo registrando Alla stragrande La bombonera Mio dio Andiamo a vedere la squadra Team of the S Season Aurier Porca vacca Non ci credo Full Legend Team Mio dio Madonna E questa è dura Ragazzi Questa è dura Sarà dura Eh sì No 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 Sì Grande Oh Ok Non riesco Non riesco Non c'è riesco Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ce l'abbiamo fatta Ripartiamo 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 Ma che cos'è Andreva Oh 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 Le skill di Andreva Andreva Perde palla Però è ancora buona È ancora buona È buonissima È buonissima È buonissima Perché mi lascia Royce Marco Marcone 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 Marco Royce Al ventiquartresimo Ci porta in vantaggio 1-0 Dai E tu c'è tu c'è Dai e dai e Buono Così Candreva Oh mio dio Candreva l'ha visto Candreva l'ha visto Candreva l'ha visto Vente che Vente che Ancora Per Marco Sbaglia Royce Marco sbaglia Royce Oh 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 Palo Palo No palo Sì sì Candreva 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 Oh 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 No Che azione Che azione Sì vabbè Il suo portiere Gesù Palla per Dante No La lisciata La lisciata Dai Ma stia sprecando Un macello D'occasioni Pah Hernanes 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 Mamma mia Oddio Mi arrabio Se la passi Però No No Che due Palle Non ha fatto Niente Non ha fatto Niente C'è pure la squadra Di tutte le leggende Fa sti gol Candreva La mette In mezzo Dove c'è Dante Questo c'è Non c'è Non c'è Royce 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 Non c'è No Sì No Ma che Magheggi Sono Ma no Gliel'ho passata Se mi segna Immeritato E mi E mi Incaso No Non mi ha fatto Il numero E vabbè Ce l'ho mai sudato Hernanes 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 Mamma mia Ma non vuole entrare Bravo Bravo Così 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 De Bruyne De Bruyne De Bruyne Porca miseria Tra No Palo Traversa No No Mi arrabbio No Non è possibile Non è possibile Non è possibile No Schifoso Che schifo Che schifo Che schifo Non ci posso Dove si diri Io Se lui Fa ste cose No Madonna Era pure Sbagliato Ah Dante Fammelo Rigore E andiamo Lo rischio Di sbagliarlo Io Non li so Tirare Va bene Calmi Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Come si Tirano Dove gliela Tiro Allora Saranno Tipo 20% Di possibilità Che lui Me la Prenda Sì 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 Adesso La Non c'è Nessuno Dai Andriva Facci gol Facci un gol Andriva Calcio d'angolo E sta partita Va a finire Finalmente abbiamo vinto Un pink pale Era da macello Che non vincevo Qualcosa Anche se In sé Non ho vinto niente C'è Andiamo Ed è finita Ed è Ed è finita Ragazzi Amici E vinciamo 2 a 1 Finalmente Mio Dio Comunque ragazzi Sapete che mi è venuta Un'idea stramagica Io voglio Provare A fare anch'io La squadra Di tutte le leggende Quindi Se questo video raggiunge I 4500 4000 mi piace È un obbligo Si raggiunge 4000 mi piace E uno Anzi 4500 Via Farò la squadra Di tutte le leggende Ebbene si ragazzi Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Commentate Andate sulla base Da facebook Per fare un po' di cose E quindi Detto questo Io vi saluto E vi dico Potenta Palla al centro Nel prossimo video Bolla